Sarà il sabato sera di Fermana-Vis-Pesaro ad aprire un tour de force di derby marchigiani che caratterizzeranno un febbraio di fuoco per la Vis che affronterà a stretto giro di posta i Canarini, l'Ancona, la Re Canatese oltre che il Pescara. La mente di Mr. Banchieri è però proiettata solo al match del Recchioni dopo aver metabolizzato il K.O. col Gubbio che ha interrotto la maxistrescia positiva dei Biancorossi di nove turni utili. Dopo nove risultati utili consecutivi abbiamo fatto questa partita dove chiaramente negli episodi e nelle situazioni di gioco dovevamo essere più attenti, dovevamo essere più cattivi, più determinati. Non lo siamo stati e quindi si volta pagina e come ho detto già dopo la partita si pensa già al derby che è una partita straordinariamente importante. È un derby, c'è una vista ai margini dei play-out e c'è una fermana ultima ma quanto mai battagliera. Insomma, difficile reputarlo una partita come le altre. È un derby, è un derby al quale teniamo tantissimo noi, tiene tantissimo la nostra tifoseria, la nostra città, il nostro club. Quindi per noi un derby ha già una valenza molto 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 importante e particolare. In più mette in paglio tre punti e quindi dobbiamo sapere che queste partite, come abbiamo fatto con Re Canatese, Ancona, Fermana all'andata, vanno giocate in un'altra maniera. Ecco, perché sono partite emozionali, sono partite dove la posta in paglio è molto più alta di quanto dicano i tre punti. La classifica va guardata poco. Io, come ho sempre detto, la classifica la guarderemo, chissà, verso metà marzo. Presso metà marzo è il momento di guardare la classifica. Adesso, onestamente, non credo ci siano molte differenze fra la Fermana e le altre squadre. Quindi noi abbiamo molto rispetto della Fermana come delle altre squadre. Però, come sempre, cercheremo, vista l'importanza, come ho già detto, di una partita diversa dalle altre, perché i derby sono diversi dalle altre partite. Quindi c'è l'emozionalità del derby, che è importantissimo per tutti, per tutti noi. E poi ci sono i tre punti in paglio, che sono altrettanto importanti. Quindi giocheremo, come sempre, per fare risultato, rispettando molto la Fermana, ma come rispettiamo tutte le altre squadre. È una vis che arriva fermo con uno sguardo al campo e l'altro all'infermeria. C'è ancora Denis Tonucci, che è in fase riabilitativa. C'è Jack De Vrij, che ha questo problema al piede, che anche lui sta riabilitando. C'è Joel, che si sta allenando e si sta riatletizzando. Da Pozzo che è rientrato e poi in settimana ha preso un colpo Pucciarelli. Dobbiamo valutarlo fino alla fine, ma questo vedremo tra oggi e domani.